Sono la professoressa Boucher del Dipartimento di Histologia dell'Università La Sapienza di Roma e lavoro da una decina d'anni nell'attività di ricerca del mio gruppo concentrato sulla distrofia muscolare di Duchenne. In particolare, quello che noi adesso vogliamo fare, grazie al supporto di Parent Project, è di verificare la fattibilità di un protocollo farmacologico per prevenire le alterazioni tardive della malattia della distrofia muscolare che avvengono a livello del cuore e del diaframma. Noi abbiamo già precedentemente dimostrato che l'inibizione di un enzima che si chiama proteinchinasi C-teta previene il danno e l'infiammazione a livello del muscolo scheletrico degli arti di topi distrofici utilizzati come modello sperimentale. Quello che adesso vogliamo fare è estendere questi studi a livello del cuore e del diaframma dove ancora poco è noto riguardo alla risposta infiammatoria e alla cinetica di deposizione di tessuto fibrotico. e quindi vogliamo inizialmente estendere i nostri studi, la nostra strategia per studiare in dettaglio la cinetica e la qualità della risposta infiammatoria a livello del cuore e del diaframma per poter identificare finestre temporali in cui intervenire con il nostro inibitore per poter verificare la possibilità di prevenire il danno in questi organi. Questo studio dovrebbe essere una sorta di dimostrazione di fattibilità e potrebbe in ogni caso portare all'identificazione di ulteriori bersagli sia cellulari che molecolari per contrastare la progressione della malattia a livello del cuore e del diaframma nelle fasi avanzate della malattia.